ariete i favori delle stelle sono rivolti a voi la psiche è forte la forma fisica alta il settore privilegiato è quello delle relazioni dei figli dove potrete avere una marcia in più e ricevere grandi soddisfazioni la vostra disponibilità all'apertura sarà vincente toro cielo un po disarmonico oggi che nasconde alla vostra emotività la parte migliore delle cose facendovi scivolare in atteggiamenti di chiusura moderate la cociutaggine e il senso di possesso liberate la mente da circoli viziosi dannosi gemelli qualche contrasto nel vostro ambiente dovuto a vedute poco lucide delle situazioni potrebbe creare qualche dissapore ma la forza vitale ed emotiva è sostanzialmente buona e vi permetterà di superare il momento con fermezza cancro un certo movimento nel settore finanziario può restare in voi preoccupazione o entusiasmo dipende dalle vostre aspettative esiste la possibilità di qualche entrata in più ma dovrete anche saper risparmiare per non disperdere velocemente i benefici ricevuti leone la luna nel segno accresce il carico di pianeti in transito procurando una bella amplificazione della vostra personalità con opportunità di espansione a largo raggio cercate di moderare egocentrismo e superattività delegate di più vergine si aprono buone prospettive offerte da giove che ha iniziato il transito nel vostro segno mercurio vi elargisce buona mobilità mentale e fisica spostamenti contatti che potrete sfruttare per alcuni cambiamenti che intendete effettuare bilancia le angolature astrali sono favorevoli la luna positiva vi orienta verso stati d'animo rilassati che esaltano la vostra naturale disponibilità e apertura sociale il buon gusto l'armonia in ogni sua forma sono vostre prerogative che vi rendono speciali scorpione arriva qualche aiuto fortunato da giove in aspetto favorevole ma oggi luna e sole marte e venere dissonanti rendono la giornata faticosa e impegnativa irritabili e alle prese con una forma fisica appannata non riuscirete a brillare sagittario il vostro cielo astrale presenta qualche dissonanza ma sta generando ancora aspetti benevoli che consentono di rapportarvi alla realtà che vivete con entusiasmo e scelte indovinate non mancheranno ancora opportunità in campo sentimentale capricorno buoni influssi astrali fanno capolino e vi tolgono la pressione che avete finora vissuto potete ora ripartire con idee e programmi più chiari sostenuti da venti favorevoli che agevoleranno il raggiungimento di nuove mete importanti acquario luna e sole opposti consigliano di prendervi una pausa la vitalità è bassa e anche le percezioni emotive non sono al massimo evitate di distorcere troppo i fatti guardandoli con una lente deformante che non rende giustizia alla realtà pesci mercurio e giove sono arrivati in aspetto dissonante di opposizione causando un po' di rallentamento dei progetti che avete in corso niente è scontato dovrete faticare un po' di più per raggiungere i vostri obiettivi dovrete pazientare buone stelle buone stelle buone stelle buone stelle